Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video, ragazzi in questo video parleremo appunto come vedete dal titolo dell'europeo 2016 che si è svolto in Francia e prima che iniziate a commentare lo so avevo pronosticato la vittoria del Belgio e in un certo senso ce l'avevo anche creduto visto l'incredibile fase finale che aveva comunque visto il Belgio in una zona completamente semplice aveva praticamente la strada spianata verso la finale invece ha fatto una figura di merda allucinante contro il Galles ed è stato eliminato e ho perso anche quei 10 euro che avevo scommesso, porca miseria e su questo avevate ragione voi, io avevo pronosticato il Belgio perché mi piace moltissimo come squadra per me ha dei fenomeni davvero di giocatori fortissimi però oggettivamente non sono una squadra non sono una squadra unita, non sono quello che abbiamo dimostrato invece di essere noi italiani e proprio come avevo detto io all'interno dello scorso video, ve lo faccio sentire di nuovo se non riuscite a ricordarvi ovviamente siamo scarsotti e non siamo in formissima per questo Euro 2016 abbiamo un'ottima difesa, su questo non ci piova ragazzi, anche se sono anti-juventino devo ammettere che la Juventus ha la difesa migliore del campionato e ha la difesa italiana ovviamente per cui come difesa è ottima ragazzi, Bonucci, Barzagli, Chiellini sono molto molto bravi ma là davanti soffriamo di un bomber di razza, soffriamo di un giocatore simbolo là davanti ragazzi stiamo andando agli europei con là davanti pelle, zazza e immobile che per carità sono bravissimi i giocatori sono veramente dei bei giocatori però in confronto ai nomi della Francia, ai nomi della Germania non hanno nulla purtroppo a che vedere quindi ragazzi sì, io avevo pronosticato che sarebbe stato un europeo molto particolare perché proprio come era successo con il Leicester avrebbe vinto una squadra o la più forte in assoluto e su questo era ovvio che le pretendenti le avevamo detti chi erano, Germania, Francia, Spagna le avevamo detto che erano le più forti oppure una squadra particolare che non tutti davano tra le principali però che sarebbe stata comunque una sorpresa grazie al concetto di squadra grazie al concetto di unione e di nazione comunque siamo in un'azione, in un campo europeo, in campo mondiale è ovvio che si viene spinti da quello che è l'unione nazionale e l'europeo spesso ci aveva mostrato cose di questo tipo come la Danimarca e come la Grecia che se vi ricordate hanno vinto in due europei ovviamente e la sorpresa in effetti è arrivata ragazzi la sorpresa è arrivata con la vittoria del Portogallo il Portogallo, l'avevo detto, chiunque, qualsiasi squadra che ha con sé Cristiano Ronaldo può essere considerato una pretendente e infatti il Portogallo lo ha dimostrato vincendo addirittura è stata una cosa fantastica perché il Portogallo è riuscito a vincere una sola partita nei 90 minuti in tutto l'europeo è stato fantastico cioè il numero uno dell'ignoranza al Portogallo, fantastico e poi è stato molto bello che nella finale Cristiano Ronaldo anche se si sia fatto male era lì, praticamente era in campo con i suoi compagni li ha spronati alla vittoria questo è una forma di grande leader davvero ha dimostrato grandissimo attaccamento alla maglia grandissimo attaccamento proprio alla voglia di vincere ed è quello che tutti i ragazzi che giocano a calcio dovrebbero imparare dovrebbero imparare da queste cose per non parlare poi di una cosa fantastica che ho visto ho visto un video durante i calci di rigore se non mi sbaglio contro chi erano ora ragazzi non mi viene in mente contro chi fossero comunque è fantastico che Cristiano Ronaldo sia andato a ricercare Gioamo Tigno dicendogli te tiri bene, te calci tanto siamo calci di rigore se sbagli chi se ne frega siamo solo nelle mani di Dio ormai siamo arrivati fin qui fantastico una frase bellissima a un giocatore davvero vero leader straordinario che San Ronaldo e il Portogallo se l'è meritata per un certo punto di vista perché in realtà la squadra che secondo me se lo sarebbe meritato davvero questo europeo ne erano due il Galles che ha fatto un europeo fantastico e la nostra Italia ovviamente e appunto parlando dell'Italia non posso non dire che non me l'aspettavo io comunque come avete sentito ho detto che l'Italia avrebbe giocato benissimo soltanto da una squadra unita un'unica nazione con aggressività e voglia ed è quello che in effetti è avvenuto e non mi aspettavo così tanto addirittura siamo arrivati a un punto che ci si sperava ci si sperava effettivamente di vincere questo europeo e non lo metto in dubbio che avremmo potuto battere chiunque contro la Germania siamo arrivati veramente però cotti secondo me siamo arrivati cottissimi potevamo dare molto di più ci siamo spaventati quando in realtà non dovevamo perché in effetti la Germania non era la Germania solita ecco diciamo così l'ho vista molto molto giù infatti con la Francia lo ha dimostrato in effetti di non essere la Germania del mondiale due anni fa magari anche loro venivano da piccoli infortuni piccole cose erano anche un pochino appagati non lo so fatto sta che questa fame nella nostra nazionale è stata davvero bellissimo è stato forse uno degli europei più belli da quando ci siamo forse quello del 2000 era una figata però anche questo molto bello mi sono sentito maggiormente durante la partita contro la Germania molto attaccato alla squadra ed è stata una figata è stata una figata per questo e quindi forza Italia sempre maggior ragione questa Italia con grande cuore perché dimostriamo secondo me anche se non abbiamo dei fenomeni dimostriamo di essere una squadra ed è una cosa fondamentale nel calcio speriamo che con ventura adesso per i prossimi mondiali le cose possano migliorare anche sarà un po' tosta perché non so se lo sapete le qualificazioni mondiali ci vedono in un girone devastante passano praticamente tanto la prima e la seconda va a fare i playoff e abbiamo nei girone la Spagna ragazzi abbiamo la Spagna nel girone sarà tosta però abbiamo dimostrato di averla battuta la Spagna ha dimostrato di aver finito un ciclo speriamo di dimostrare a noi di iniziarne uno effettivo con dei nuovi campioni e io sto aspettando Donnarumma in nazionale ragazzi da morire allora mi raccomando lasciate mi piace ovviamente se il video vi è piaciuto commentate fatemi sapere che cosa ne pensate di questo europeo fantastico e mi raccomando però non scrivete come nella scorsa volta che io avevo pronosticato il Belgio prima e dopo un po' un miliardo di commenti ho scritto ah 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 Pelle e chi era Giaccherini non la pensano come te perché aveva minuto 2-0 Italia 2-0 sì ragazzi io ho tifato Italia in quella partita cioè è normale però ovviamente è facile parlare dopo prima ovviamente uno pronostica e poi vediamo se ci ho torto ho avuto torto ok però ragazzi calma con i commenti cioè area di discussione possiamo discutere secondo voi che cosa faremo nel prossimo mondiale ci qualificheremo tranquillamente che dite con questa squadra con Ventura come la vedete l'anno prossimo nazionale ragazzi fatemi sapere in un commento cosa ne pensate anche di questo europeo sbizzarretevi grazie mille per aver visto questo video un saluto ciao da Papyrus